E' stato inaugurato ufficialmente ieri il nuovo anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. La prolusione ufficiale è stata affidata al Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che ha tra l'altro sottolineato la necessità di un capitalismo più attento ai valori. A inaugurazione in qualità di Presidente dell'ente promotore dell'Università Cattolica, ovvero l'Istituto Toniolo, era presente anche il Cardinal Tettamanzi. Vediamo. Certo, non è un momento facile per l'istruzione nel nostro Paese e per l'Università. I problemi esistono anche in strutture d'eccellenza come l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha aperto solennemente il suo 88esimo anno accademico, con la celebrazione eucaristica preseduta nella Basilica di Sant'Ambrogio dall'Arcivescolo. Poi in Aula Magna, con la prolusione del Ministro Tremonti, il saluto del Cardinale Tettamanzi, quale Presidente dell'Istituto Toniolo di Studi Superiori, preceduti come tradizione dal discorso inaugurale del magnifico Rettore dell'Ateneo, Lorenzo Ornaghi, che ha lanciato il suo grido d'allarme sulla funzione culturale dell'Università, che comincia a indebolirsi se si perde il senso del sapere. Noi siamo in una fase in cui ogni tanto ci sentiamo come su un crinale. Noi abbiamo nel Paese ancora tante risorse, però sperimentiamo tante difficoltà anche nell'azione quotidiana, nel nostro lavoro quotidiano. E abbiamo davvero bisogno di giovani che si preparino e che, con competenza, che è essenziale, ma anche con rigore morale, diventino poi le minoranze creative che anche il pianeta XVI ha evocato più volte. Una preoccupazione sul vero servizio che gli Atenei devono svolgere condivisa da Tettamanzi, che ha parlato di una razionalità aperta e coraggiosa capace di coniugarsi con la sapienza, al fine di promuovere un sentiero educativo sapienziale dell'Università adatto alla persona, e in particolare per il mondo dei giovani. Perché sono precisamente i giovani quelli che attraverso questa educazione e questo esercizio del sapere assumeranno le loro responsabilità professionali e quelle ancora più vaste sociali e politiche nella società di domani.